Ben ritrovati con il solito appuntamento a commento della partita della beniamata Iguestabbia Una Iguestabbia che esce sciaguratamente ridimensionata dal Dino Manuzzi di Cesena E' una Iguestabbia come non mai tra le squadre professionistiche italiane capaci e capabili Nel largo compito di complicarsi la vita Una difesa, l'avete vista tutti quanti, la partita Nocchi si commenta da solo Cellini egoista a un punto assurdo Tale da non mettere la palla del vantaggio di un metro dalla porta a Maxwell Acostini Il commento è abbastanza diretto, abbastanza puntuale in quello che è il match Qualcuno aveva già festeggiato programmi importanti Siamo vicini alla salvezza, è una salvezza che per il momento non è matematica Bisogna rimboccarsi le maniche contro i calciatori veronesi di Mandorlini Che sabato saranno ospitate a Roma Menti di Castellammare Ed è un finale di stagione che noi tutti quanti ci pensavamo dovesse darci delle serenità maggiori Invece supereremo quest'altra settimana di ansia e adrenalina calcistica Per portare la bene amata ad una salvezza tra virgolette meritata Ma troppo troppo stentata per quelle che sono le ultime partite Un match quello del Dino Manuzzi finito 3-1 per la squadra locale E a tratti a dir poco irritante l'atteggiamento di qualche calciatore della USA in campo Dovevamo chiudere la partita in 6-7 minuti in quelle poche azioni Per le quali abbiamo dimostrato di essere la USA Poi abbiamo abbassato i ritmi sciaturatamente E siamo riusciti nell'argo impresa di perdere una partita importante Sabato sicuramente è inutile che dal mio pulpito si dica che vanno ricacciati fuori i cosiddetti attributi calcistici E soprattutto va rimarcata una frase che stavolta la voglio dire Toccando un attimino quella che è l'emotività dei singoli addetti ai lavori A me in passato a 35 anni hanno insegnato che la calma è la virtù dei forti Non certo la presunzione, la presunzione per questi 7 giorni va messa da parte Va ricacciato fuori l'orgoglio e il cuore operaio Per non depoperare quello che è un bene importante per Castellammare di Sabi Vale a dire la cadetteria Ne siamo tutti fiduciosi Ma sicuramente l'atteggiamento amici cari Tattico ed emotivo di questa USA è a dir poco pretenzioso